I Borboni, il Regno delle Due Sicilie, un momento di attesa di cambiamento per l'isola, il periodo che precede l'unità d'Italia, il risorgimento in Sicilia. Una fase storica decisiva e ricca di eventi, quella che viene analizzata dalla professoressa Fiorella Falci nei locali della parrocchia San Pietro. Proseguono infatti anche quest'anno le lezioni dell'università senza età, dopo la buona risposta ottenuta lo scorso anno. Il primo quadrimestre 2017-2018 prevede lezioni di inglese il mercoledì e il giovedì, di astronomia il giovedì, mentre il mercoledì dalle 17.30 le lezioni riguardano la Sicilia, i siciliani e la sicilianità. Circa 30 gli iscritti al corso di astronomia e 70 i corsi di indirizzo storico e sociologico. Numerosi gli incontri che si susseguono nel corso del quadrimestre, raccontando la Sicilia dall'antichità all'età moderna fino ad arrivare a quella contemporanea e mineraria. Si fa riferimento anche ai parchi naturali, al dialetto e agli scrittori siciliani nella letteratura della Nuova Italia. Lezioni tenute da numerosi esponenti della cultura nissena. Fino a dicembre si affronta l'aspetto storico, mentre da gennaio gli aspetti sociologici. L'università senza età ha l'obiettivo di incontrare il desiderio di cultura e conoscenza di coloro i quali la frequentano. L'iniziativa nasce dalla volontà del parroco di San Pietro, padrerrino dell'ospedale Alongi. E grazie all'impegno di alcuni volontari, per l'esattezza il preside Sergio Mangiavillano, i docenti Maria Lupo, Cettina Ginevra e Giuseppe Di Martino.